Cerchio e seno. La cosiddetta medianità ha due componenti, una di carattere prettamente fisico, l'altra che può dirsi di natura esclusivamente psichica o meglio spirituale. La componente fisica è costituita da quell'insieme di fattori che caratterizzano la matrice fisica a determinare condizioni adatte all'estrinsecazione dell'evento in sé, essenziale tra queste la labilità del legame spirito-materia. La componente spirituale è invece quella fondamentale originaria della medianità che sta nella decisione presa ed accettata dall'entità prima di incarnarsi. Entrambe le componenti possono rimanere inespresse o limitate a forme diverse, ma ricordate che chi accetta questo dono divino ne è responsabile, poiché dovrà rendere conto dell'uso fattone. Egli non è per niente un privilegiato, anzi, al contrario, si assume un peso di cui, peraltro, sarà tenuto conto, ma la sua responsabilità è limitata al cattivo uso che potrebbe farne. Dovrà rispondere della libera scelta che avrà operato nel decidere un eventuale rifiuto a estrinsecare tale facoltà.